Buongiorno, benvenuti a Reader. Volevo cominciare citando Margaret Yursenar, che diceva che una biblioteca è come un granaio in cui si accumulano risorse per l'inverno dell'anima, diceva lei, che mi sembra un'immagine molto bella, che unita con quello che diceva invece Borges, che immaginava, da un punto di vista laico però, diceva che se Dio esistesse sarebbe come una biblioteca infinita. Ecco, il progetto di cui parliamo oggi unisce un po' in qualche modo queste due visioni, quindi una biblioteca infinita, potenzialmente infinita, che faccia da granaio per questo lungo inverno dell'anima che stiamo attraversando. È una biblioteca digitale, pensata e riprogettata anche in funzione delle scuole. Per entrare, insomma, subito nel vivo, visto che i tempi sono stretti, lascio la parola a Giulio Blasi, che è l'amministratore delegato di Horizon Unlimited e che è la società che gestisce il servizio Mlol, che è quello a cui fanno riferimento le biblioteche italiane, con 4.500 biblioteche digitali, e che è appunto al centro del... ci spiegherà, insomma, meglio il progetto Reader e come l'Emilia Romagna in qualche modo abbia fatto da progenitrice a questo tipo di servizio molto innovativo. Sì, allora, a me è il compito di descrivere rapidamente, telegraficamente, il progetto. Quello che... parto dalla fine, cioè da quello che ha fatto la Regione Emilia Romagna. La Regione Emilia Romagna non ha fatto da progenitrice, ha compiuto un processo di radicalizzazione di un servizio che esisteva e che veniva usato da un piccolo numero di biblioteche dell'Emilia Romagna, cioè da un centinaio di biblioteche che avevano individualmente cominciato a utilizzare il servizio Mlol Scuola. Mlol Scuola è una biblioteca digitale, ma su cos'è, diciamo, torno fra qualche altro. Che cosa ha fatto la Regione Emilia Romagna? La Regione Emilia Romagna ha deciso di offrire un accesso a tutte le scuole del territorio, a tutte le scuole della Regione, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e secondo grado, nella forma di due portali, un portale dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado, e un portale dedicato alle scuole di secondo grado. Che cosa, in soldoni, cosa significa questo dal punto di vista di uno studente o di un insegnante? Significa poter accedere fondamentalmente a due collezioni, una collezione di libri, di e-book, di libri digitali, di oltre 70.000 unità, che è, diciamo, costituito da titoli dei maggiori editori italiani, e soprattutto da novità editoriali, diciamo, di gran parte degli editori italiani, e da una grandissima collezione di quotidiani, italiani circa 150, ma oltre 150 quotidiani italiani, oltre 7.000 quotidiani da tutto il mondo. Questo più, queste due cose, quindi una grande collezione di e-book in lingua italiana, una grande collezione di quotidiani internazionali, da 90 paesi diversi in 40 lingue diverse, si aggiunge una grande collezione di una cosa che nel mondo della scuola viene chiamata OER, Open Educational Resource, cioè una grande collezione di oggetti digitali ad accesso gratuito, che possono essere utilizzate in vario modo nella didattica. Perché questo è rilevante? È rilevante, e qui faccio, torno indietro anche alle ragioni, che qualche anno fa ci hanno spinto, diciamo a progettare un servizio specifico per le scuole, ricordo che MLOLE è un servizio che anche in Emilia Romagna lavora principalmente con il settore delle biblioteche pubbliche di ente locale e un po' anche con le università. Quindi diciamo è un servizio che i cittadini possono trovare un po' ovunque nelle aree dove le biblioteche sono forti. Il problema sono le biblioteche scolastiche. Le biblioteche scolastiche, per contro, sono estremamente deboli. Abbiamo indagini fatte ripetutamente dall'Associazione Italiana di Editori, dall'Associazione Italiana delle Biblioteche, che dipingono un quadro a tinte foschissime del mondo delle biblioteche scolastiche. Un quadro nel quale abbiamo collezioni di 2-3 mila titoli al massimo. Un quadro che ci dice che in realtà in gran parte delle scuole italiane non esiste un servizio bibliotecario attivo, anche perché non esiste una normativa che ne imponga l'apertura e l'esistenza. Un quadro che ci dice che la capacità di spesa delle singole scuole è estremamente ridotta, nell'ordine di poche centinaia di euro l'anno, e quindi con la possibilità di accedere a un numero ridottissimo di novità editoriali. In questo contesto il digitale, che non è la panacea, non è la soluzione di tutti i mali, il digitale ha tantissimi difetti e alcuni specifici vantaggi. Uno di questi è quello di permettere l'aggregazione di collezioni molto grandi, quindi per esempio dicevo che il progetto di Mirai Romagna ha 70.000 libri. 70.000 libri è centinaia di volte lo standard di libri posseduti da una tipica biblioteca scolastica quando esiste, e questi libri sono novità editoriali, quindi la probabilità di trovare in reader l'ultimo libro pubblicato da un grande editore è altissima, per alcuni editori addirittura matematica, per esempio la Mondadori offre l'intero catalogo aggiornato in tempo reale, cioè se l'ebook viene pubblicato su Amazon viene pubblicato il giorno stesso su reader, quindi diciamo uno studente che legge una pubblicità oppure una recensione su una rivista ha una probabilità altissima. Questa probabilità invece è una frazione, è veramente millimetrica se pensiamo al mondo delle biblioteche scolastiche tradizionali. Quindi questo è il nocciolo. Il nocciolo è la capacità del digitale di portare grandi quantità di contenuti, grandi quantità di novità editoriali e di poterle diffondere e distribuire con un modello cooperativo che nel mondo fisico sarebbe impossibile. Se l'assessore Felicore avesse voluto costruire un sistema di interprestito tradizionale diciamo di libri di carta tra le 750 biblioteche delle mie Romagne avrebbe dovuto investire cifre colossali, mentre invece il budget necessario a fare questo servizio in digitale è un budget modesto. e questa non è una virtù del digitale, è proprio il suo modo specifico di funzionamento. Quindi questo è il nodo essenziale. Quindi per la prima volta noi abbiamo un esperimento di estensione a un territorio molto largo del servizio. Dove era Mlol scuola prima di questo progetto? Era in circa mille scuole italiane. Mlol scuole italiane, avevo contato qualche slide ma non abbiamo il tempo e quindi provo a ammesso di riuscire ad azionare il cipollino. Eccolo lì. Qui, vabbè, questi sono un po' di istogrammi che vi dicono una cosa abbastanza ovvia, c'è una differenza incredibile che c'è negli indici di prestito del sud e del centro nord, ma questo ci interessa poco. Ecco, giusto per darvi un ordine di grandezza di che cosa significa la questione meridionale nel mondo delle biblioteche digitali. Stiamo parlando, diciamo, di un 98% di tutti i parametri vitali nel centro nord e di 1,7% sud e isole dove la Sardegna, tra l'altro, fa praticamente tutto quel quasi 2%. Quindi è una situazione molto complicata. Per quello che riguarda le scuole, però, la differenza nord-sud è meno accentuata, quindi le scuole sono più forti delle biblioteche pubbliche, diciamo, in percentuale. Vado molto, molto rapidamente. Questo è, diciamo, quindi abbiamo, ci sono 750 scuole aderenti e circa 1000 scuole che usano la scuola in rete in Italia. Il progetto Reader porta 350 nuove scuole in questo progetto. Quello che volevo farvi vedere, ma rapidissimamente, è che, giusto per il progetto Reader, è partito il 15 novembre. L'Emilia Romagna era in ottobre, per quello che riguarda gli indici di lettura digitale in rapporto al resto d'Italia, costituiva l'11,98% del totale. A fine novembre era passata, dopo l'inizio del progetto Reader, era passata al 26%, quindi un impatto immediatissimo. Siamo a poche settimane dalla partenza, però, non so se ho qualche altro... Ecco, per quello che riguarda i libri in particolare, perché quello è un indice che si riferisce a tutte le tipologie di contenuti, quindi inclusi i quotidiani, eccetera, per quello che riguarda i libri, la percentuale realizzata nel mese di novembre alle scuole del Emilia Romagna è il 34% della quota nazionale, quindi un impatto molto significativo che mi porta a dire che dobbiamo assolutamente tentare di estendere questo progetto, questa sperimentazione ad altre regioni italiane. Io mi fermo qui perché avrei mille cose da dire, ma abbiamo un tempo molto compresso, quindi lascio lo spazio agli altri colleghi. Poi magari nel livello vediamo un sito di qualche parte. Certo, assolutamente. Ecco Stefano Versari, che è il capo dipartimento del sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione. Volevo chiedere un po' l'importanza di questo tipo di progetto e anche che tipo di impatto immaginate su appunto gli studenti. Intanto se sono qui, mi scusandomi per il ritardo, ma continuo a non capire, ma evidentemente anche l'autista che tre quarti d'ora non l'avevamo messo in conto per venire dal Ministero qui, e quindi abbiamo toppato nelle previsioni. E continuo a non darmene una ragione, ma questo è... perché proprio non... è una non comprensione del territorio. Ma se sono qui è perché questa cosa ci credo. Il problema è che bisogna trovare la maniera di collocarla ancora di più in un quadro di senso. oggi mi chiedevano che cosa secondo me è il PNRR e io ho detto guardate, secondo me non è l'idea di una dirigenza che corre nel deserto per portare tanti ori in alcune fermate in qua e in là perché in questa linea, in questa logica la dirigenza viene soggetta ad assalti a tentativi di dirottare in qua e in là un po' di briciole, un po' di ori per questo o per quell'altro. La vera forza del PNRR non è pur essendo ingentissimo all'entità delle risorse, non è l'entità delle risorse. e mi è venuto questo esempio essendo come tanti un appassionato di Sergio Leone e avendo il ministero sede in Trastevere quindi insomma mi è tornato alla mente c'era una volta il West. Ecco, non dobbiamo pensare ai film di John Wayne con la dirigenza o i banditi o gli indiani che tirano contro la dirigenza per fermarla. dobbiamo pensare alle scene finale delle 19 volte il West dove si vedono queste migliaia di persone che lavorano per costruire la dirigenza per costruire la ferrovia che attraverserà tutto il West grazie poi al treno che la potrà percorrere. Il PNRR è un'operazione di di investimento di condivisione sociale sulla credibilità del paese ed è prima di tutto una credibilità nostra non è una credibilità mutuata non abbiamo bisogno di rispondere in primo luogo agli stakeholders noi dobbiamo rispondere in primo luogo alla credibilità che noi come cittadini di questo paese confidiamo e quindi per quanto investiamo sul sistema Italia e quindi sui nostri giovani allora se il PNRR è questo e cioè un individuare delle priorità credibili e quindi condivise diffusamente nell'ambito della società se questo è e sono convinto che così sia se andiamo a vedere le parole maggiormente utilizzate all'interno di PNRR sono la parola formazione e trasformazione che significa in tutti i campi e non è solo nella scuola formazione per i beni culturali formazione per la pubblica amministrazione formazione trasformazione più di 200 volte come dire ho fatto il conteggio delle parole quindi è una delle parole più utilizzate si tratta di trasformare il sistema paese che non è solo un sistema economico pur importantissimo ma è un sistema nella sua complessità è una comunità paese convinti che in questo percorso di nuova formazione ci sia la necessità di innovare un'altra delle parole più diffuse nel PNRR è il digitale adesso parlo dal punto di vista della scuola il 68 è stato sostanzialmente l'esempio del ha reso evidente in Italia negli anni 70 ha reso evidente che la scuola così com'era non riusciva più a rispondere ai bisogni diffusi c'è stata una riflessione quindi negli anni 80 e negli anni 90 si è arrivata si è arrivate sostanzialmente negli anni 80 con gli organi collegiali poi negli anni 90 si è arrivata l'autonomia delle istituzioni scolastiche tutto il ragionamento è stato vediamo di incrementare i contributi e gli apporti educativi che possono arrivare dal mondo esterno della scuola e della scuola stessa resa più più autonoma più capace di promuovere le potenzialità poi si arriva agli anni 2000 c'è stato un momento di ondeggiamento sul tema del regionalismo lo lasciamo stare perché non è questo ondeggiamento nel senso non nel senso negativo proprio di riflessioni come dire pencolanti su quello che fosse meglio ma ci si è nello stesso tempo resi conto ad esempio della necessità dell'alternanza scuola-lavoro come necessità di aprire la scuola ad apporti educativi ad apporti culturali provenienti dal mondo esterno e ancora di più adesso quando da qualche anno il ministro lo sta sottolineando i patti educativi di comunità che sono l'apporto della realtà esterna per l'arricchimento dell'offerta formativa perché? perché la scuola non riesce a essere così veloce nel cambiamento così come la realtà è divenuta certo la scuola deve essere più riflessiva ma non può avere certo i tempi di riflessività che avevo in precedenza tutto il tema della lettura il tema della lingua il tema della lingua come strumento di comunicazione e quindi di comprensione reciproca come strumento di aggiornamento non a caso la sottolineatura del digitale che è sempre nel PNRR con tutto quello che porta dietro di sé come valenza positiva di apprendimento di conoscenza di scambi culturali tutto questo tema va ripensato perché va ripensato? perché quello che facevamo prima non andava bene? no perché i tempi sono cambiati e ci rendiamo conto e lo dico con rammarico da un certo punto di vista mia moglie ha una libreria quindi non sono certo io che getto il fango sulle librerie però oggettivamente le modalità di comunicazione di lettura sono anche di acquisizione dei testi sono notevolmente mutate a noi non compete attardarci su una realtà che non è più a noi compete cercare di comprendere la realtà attuale dove ci porta la libreria la biblioteca la biblioteca scolastica è vero noi negli ultimi vent'anni il tema delle biblioteche scolastiche è stato sostanzialmente trascurato anche perché poi non è che in precedenza ci fosse chissà quale rilevanza da decenni a questa parte anche perché in realtà per vent'anni gli ultimi o i due o tre decenni del secolo scorso hanno fatto sì che le biblioteche scolastiche vivessero grazie tra virgolette ai docenti in idonei all'insegnamento molti di docenti che avevano una delle malattie professionali più diffuse quella del linfonodi erano a suo tempo assegnate alle biblioteche scolastiche non potendo più svolgere l'insegnamento direttamente ecco in questa concezione di biblioteca la biblioteca inevitabilmente tende allo sannaturamento di sé alla perdita della propria identità e non diventa luogo attrattivo luogo di riflessione luogo di comunicazione luogo permanente aperto noi in realtà ne abbiamo esperienze in giro per l'Italia e ne viene in mente in questo momento una che è a Cadeo in provincia di Piacenza dove c'è una lo dico perché l'andai a vedere quando fu inaugurata dove c'è proprio l'idea della biblioteca scolastica che però nello stesso tempo è stata costruita all'interno di un plesso come biblioteca del comune quindi è aperta in certi orari da una porta al comune quindi all'utenza del territorio e in altri orari invece viene frequentata dagli studenti della scuola e la bella esperienza che mi piaceva mi colpiva era che c'era una compresenza di personale scolastico e personale bibliotecario che ha una competenza specifica che non si inventa che non è scontata questa compresenza faceva sì che quel luogo diventasse l'idea di scuola aperta aperta alla riflessione al confronto alla cultura da cui tutto anche l'utilizzo di tutti gli strumenti digitali allora noi abbiamo bisogno che sia chi opera nel settore dei libri sia regioni e assessori lungimiranti come l'assessore Felicori non si fermino a questa operazione e ragionino insieme a noi al di là delle difficoltà istituzionali perché ogni regione ovviamente è autonoma nel decidere come muoversi ma ragionino insieme a noi per come fare un passo successivo per come aiutarci reciprocamente per far sì che la biblioteca diventi nient'altro la biblioteca scolastica che uno degli spazi diversi della scuola aperta che continuamente richiamiamo come necessità scuola che poi la scuola di cui scriveva negli anni 60 di Bertolomeis cioè una scuola a tempo pieno non perché ti do tante ore in più di insegnamento e quindi di lezione frontale ma scuola aperta perché sono e costituisce luoghi in cui ci si può incontrare si può socializzare si possono arricchire gli apprendimenti si possono utilizzare tutti i vari strumenti che la scuola stessa mette a disposizione d'intesa con il territorio fra cui la biblioteca scolastica e chissà l'auspicio è che non riusciamo anche a entusiasmare un po' meglio rispetto alla lettura del libro che io sono convinto non sia superata ma che in questo momento è oggettivamente in forte difficoltà proprio sul suscitare questo nuovo entusiasmo sentire Gino Roncaglia che è docente di Digital Humanities ed Editoria Digitale all'Università di Roma 3 e che ha a che fare quotidianamente insomma con i giovani che sono appena usciti da licei e scuole superiori ecco come si fanno ad avvicinare o sono già più vicini per loro natura a questa forma di lettura allora io partirei scusate intanto se non mi levo la mascherina ma c'ho un problema a polmonare per cui mi viene raccomandato sempre di prudenza dunque io partirei da una considerazione che è stata già fatta cioè la situazione delle biblioteche scolastiche in Italia non è delle più felici le biblioteche scolastiche esistenti sono molte sulla carta le biblioteche scolastiche funzionanti bene sono pochissime questo è un problema da vari punti di vista naturalmente anche avendo la concezione per così dire un po' antica per certi versi della biblioteca scolastica come luogo della lettura e della scoperta del libro e questo è uno dei compiti della biblioteca scolastica già solo per questo compito qui il fatto che le biblioteche scolastiche siano funzionanti siano così poche è un indice negativo naturalmente ma noi dobbiamo pensare anche alla biblioteca scolastica nel quadro complessivo della scuola la nostra scuola ha anche molti motivi di orgoglio io credo ma ha alcuni problemi tra i problemi principali c'è la forte rigidità dei gruppi classe c'è la forte rigidità delle barriere disciplinari nonostante tutto il lavoro che si sia fatto anche metodologicamente in questi anni per cercare di spezzare queste rigidità favorire il lavoro trasversale e anche la forte rigidità dei muri della scuola che separano la scuola dal territorio e è difficile che le nostre scuole riescano a essere delle agenzie formative territoriali a pieno titolo queste tre rigidità gruppi classe discipline scuola separata dal territorio in parte anche dalle famiglie sono delle rigidità che la biblioteca scolastica può contribuire in maniera decisiva a ridurre noi dobbiamo secondo me pensare alla biblioteca scolastica certo come luogo della lettura della scoperta del libro ma innanzitutto come luogo di approfondimento degli interessi personali la biblioteca scolastica è anche un luogo straordinario di documentazione è un luogo straordinario di lavoro curricolare ma è soprattutto l'unico posto nella scuola in cui c'è uno spazio dedicato anche all'approfondimento degli interessi personali in maniera trasversale perché un interesse può mettere insieme in un gruppo di lavoro in un gruppo di attività studentesse e studenti di classi diverse in maniera trasversale rispetto alle discipline e anche in parte extracurricolare perché gli interessi personali non seguono i confini rigidi delle discipline dare dare dei luoghi in cui si può lavorare sull'approfondimento degli interessi e in cui lo si può fare in maniera aperta al territorio in maniera anche uno degli aspetti più interessanti di questo progetto è il fatto che il prestito digitale di libri di riviste di quotidiani è fruibile in principio perfettamente anche dalle famiglie ecco questi tipi di apertura aiutano a far capire che la biblioteca scolastica può essere in questa scuola molto chiusa dai primi spazi e dai primi tempi delle classi e delle discipline può essere un luogo di terzo spazio di terzo tempo in cui si spezzano rigidità si approfondiscono interessi e si scopre la lettura e il libro come strumento di approfondimento degli interessi personali mi chiedevi quali strategie la strategia migliore è partire dagli interessi personali se noi diamo degli strumenti di approfondimento degli interessi favoriamo la scoperta del libro non in un contesto di obbligo alla lettura ma in un contesto di approfondimento di un mio interesse questa secondo me è la singola mossa più importante anche per questo le biblioteche digitali hanno un aspetto di grossa rilevanza che è proprio nell'ampia quantità di risorse a disposizione anziché avere la solita biblioteca di mille testi canonici spesso con un canone molto indietro nel tempo in cui non ci sono graphic novel in cui non ci sono abbiamo delle biblioteche digitali che possono effettivamente aiutare approfondire interessi nel contesto di oggi le ultime uscite le quotidiane le riviste e è un luogo in cui si può lavorare anche su tanti interessi appunto non strettamente curricolari noi abbiamo visto biblioteche scolastiche che lavorano non so che hanno in biblioteca scolastica prestito di strumenti musicali in cui la biblioteca scolastica presta i dispositivi a chi non le ha in questo periodo è stato importante in cui la biblioteca scolastica può lavorare appunto anche al prestito verso le famiglie verso il territorio questi aspetti sono importanti il digitale è uno strumento per aiutare anche a concepire diversamente la biblioteca scolastica anche rispetto alle risorse tradizionali fisiche che restano importanti ecco per la conclusione Mauro Ferlicori che è l'assessore alla cultura della regione e paesaggio della regione Emilia Romagna e che si è fatto insomma si è fatto notare fin da subito per il suo piglio molto innovativo nelle proposte che ha fatto molto spinte anche sul digitale che vanno un po' anche contro la retorica classica del libro come oggetto del profumo della carta quindi diciamo una mossa anche provocatoria in stile molto Felicori mi viene da dire grazie buongiorno sì io sono molto impressionato dai dati che ha dato Giulio magari dopo se ci torni sopra se ci resta qualche minuto perché sono dati molto positivi così senza riflettere mi sembra di poter dire che il mondo della scuola anche grazie all'atteggiamento particolarmente attivo che ha avuto il ministero in questa in questa operazione è stato quasi più più reattivo del mondo delle biblioteche civiche e questo direi prima di passare all'opportunità direi che questo è oggi il problema e a me piace i problemi fotografali per bene poi le soluzioni devono essere anche moderate però la verità va detta nitidamente durante l'epidemia io ho osservato un atteggiamento conservatore del mondo delle biblioteche civiche sulla questione del digitale abbiamo fatto con Claudio Leombroni anche un'indagine su come le biblioteche civiche hanno reagito al covid attraverso lo strumento il collegamento con le biblioteche digitali siamo onesti sono state le biblioteche civiche dell'Emilia Romagna pioniere assieme a Lombardia e altre regioni nel collegamento con le biblioteche digitali un grandissimo merito però durante l'epidemia ho avuto la sensazione che le considerassero importanti ma non particolarmente importanti l'indagine dicevo che abbiamo fatto con Claudio voi vi aspettate che c'è il covid non si può uscire di casa aprite l'home page di una qualunque biblioteca civica e c'è scritto oddio dio non si può uscire di casa ma puoi non rinunciare alla lettura iscrivendoti alla biblioteca digitale e traendo io direi che aiutami tu Claudio siccome il 10% aveva cambiato l'home page ho dovuto anche tristemente vedere moltissime pagine home page anche di biblioteche importanti che continuavano a dire allora per iscriversi alla biblioteca digitale dovresti fare la cortesia di venire qui da noi in biblioteca poi fai la tessera e dopo quando vai la tessera è tutta una procedura che è anti-digitale nella sua natura questo è un problema adesso scherzando prendo sempre in giro quelli che raccontano il loro piacere nella uvidità della carta l'odore dell'inchiostro l'inludibilità della fisicità nel libro trovo sempre così cose che se si parla di gusti personali sono sempre rispettabili anch'io quando penso un libro lo penso di carta e quando compro un libro lo compro di carta ma io ho 70 anni e spero che il mondo non sia come me non assomiglia a me là dove io sono largamente superato e obsoleto quindi questa è una questione che come tutte le questioni politiche e direi ideologiche va affrontata come tale con una discussione scherzando l'altro giorno in un convegno di architetti parlavo con architetti che raccontavano le loro visioni della città e così scherzando ho detto sì ma l'illuminismo non avrebbe vinto se non ci fosse stato Robespierre poi ha fatto una brutta fine ma non è che le idee si affermano perché uno è intelligente e ha raccontato un altro una bella idea che dice che bella idea cioè esiste anche un concetto di conflitto di scontro che non può essere eluso dunque questo è un problema ed è un problema enorme perché qui passo alla parte positiva io sono convinto che le biblioteche civiche liberate degli enormi costi del prestito che sono enormi perché noi poi siamo anche abituati che diciamo la cultura è una specie di dio a cui tutti i sacerdoti naturalmente anche le vestali c'è tutto c'è anche il femminile naturalmente e quindi se la spesa è culturale va sempre bene no la spesa culturale c'è quella efficiente c'è anche quella inefficiente è come il debito dei draghi c'è quello buono e c'è anche quello non buono e quindi noi dovremmo anche vedere i costi il prestito per esempio ha dei costi enormi e io ho visto durante sempre l'epidemia ho visto bibliotecari fare delle fatiche enormi sembrava biblioteche come conventi di clausura con spioncini attraverso i quali veniva dato un libro a difendere una cosa che in quel momento non aveva più senso liberate di tutti questi costi le biblioteche potrebbero diventare quei grandi centri culturali dell'educazione permanente e questo è diciamo l'idea che io avrei per il futuro delle biblioteche civiche si dice se ogni volta che una disciplina è importante si dice bisognerebbe insegnare alla scuola allora io ho fatto tutto l'elenco mi riscorderò a scuola bisognerebbe insegnare lo strumento la storia dell'arte l'archeologia cioè se uno dice ma quanto devo stare con la scuola allora secondo me a scuola quando ci sei sentato cinque ore è già abbastanza poi ci sono i compiti però nel pomeriggio nella sera nei weekend le biblioteche civiche devono essere dei posti meravigliosi in cui liberamente puoi scegliere qualunque cosa in modo elettivo devono essere dei grandi centri dell'educazione permanente di tutte le età e qui accolgo una proposta di Versaglio con il piacere di incontrare per la prima volta siamo stati vittime del digitale di persona se potessero diventare questo anche partendo dalle biblioteche digitali delle scuole anche le scuole superiori nel territorio questo è il mio sogno io sempre per ragione di età prima del 68 che ho avuto anche enormi difetti e di cui non ho tanta nostalgia al mio liceo c'era il concorso di poesia c'era il cineforum c'era un'attività culturale pomeridiana impressionante e io figlio di una indegnissima periferia dove non c'era niente per me diceva un posto fantastico io andavo sarei stato a scuola fino a sera beh c'era tutto poi è crollato tutto non è stato sostituito da quasi niente però complessivamente è stata un'epoca positiva grazie grazie ecco siamo stati perfettamente negli orari forse abbiamo 5 minuti quindi vediamo se c'è una domanda o se c'era qualche slide che volevamo approfondire do un numero continuo a dare i numeri do un altro che è interessante perché spesso si parla diciamo di progetti di far capire come un progetto come questo è un progetto di promozione della lettura e che diciamo che dinamica di numeri ha noi abbiamo fatto il primo il primo webinar in cui abbiamo con l'aiuto dell'ufficio scolastico regionale e hanno partecipato 900 insegnanti quindi questo è un progetto che ha dalla sua un 900 referenti delle scuole dell'Emilia Romagna che irradieranno il sistema ora se voi immaginate un'irradiazione anche solamente a una o due classi per scuola questo è probabilmente il progetto di promozione della lettura l'esperimento di promozione della lettura scolastico più grande che sia mai stato tentato voglio dire in termini di intensità nel tempo e nello spazio di nuovo non è perché siamo più bravi è proprio la dinamica del digitale che permette questa foto la seconda cosa che vorrei dire è questa le biblioteche scolastiche sono dovrebbero essere il primo gradino di accesso all'ecosistema della lettura cioè è lì secondo me che probabilmente si fa la differenza tra molti paesi europei e del mondo e l'Italia con effetti che si vedono poi sui numeri della lettura adulta i numeri bassi della lettura diciamo degli adulti in Italia secondo me sono un riflesso diretto del fatto che noi non abbiamo un sistema di biblioteche scolastiche istituzionalizzate e avere questo progetto quindi porta a un ulteriore elemento cioè l'idea di essere un grande sistema di promozione dei servizi che offrono le biblioteche pubbliche una sorta di corridoio che se verrà svolto eseguito questo progetto non tanto da noi ma dagli insegnanti dalle scuole che lo utilizzeranno in modo corretto sarà una sorta di corridoio d'accesso per gli studenti al sistema della lettura pubblica banalmente l'utente che avrà le credenziali per accedere per 3, 4, 5 anni al sistema nella sua scuola imparerà spero che tutte le biblioteche civiche delle migliaia romagna se va a iscriversi anzi magari nel frattempo magari avremo implementato l'iscrizione via speed senza doversi recare in biblioteca avranno la diciamo in qualche modo l'informazione sull'esistenza di questo servizio e di questo sistema più grande ecco se l'assessore vuole concludere dopo queste ultime osservazioni questo sì ho dimenticato di dire una cosa che secondo me è molto importante penso che queste biblioteche digitali possano svolgere anche un ruolo molto importante sul tema della migliore inclusione dei figli degli immigrati nel nostro paese di una ventina di anni fa e meritatamente sono anche stato direttore delle biblioteche civiche di Bologna e una volta passeggiando per la sala borsa mi cadde l'occo su una sezione di letteratura russa di Tascabili ma non solo molto abbastanza grande ma tutti consumati allora chiesi spiegazioni e mi dissero che le tantissime badanti che vivono la Bologna che sono per lo più Moldave però parlano tutti russo per i vecchi trascorsi coloniali diciamo e usavano questa biblioteca russa come la loro biblioteca e siccome si sa che uno dei problemi dei figli degli immigrati con la loro lingua di origine è che nella migliore delle ipotesi lo parlano anche bene ma quasi mai lo scrivono e lo leggono perché mentre l'orale viene imparato in famiglia in casa lo scritto non c'è un luogo in cui si impara a leggere e scrivere da lingua originale sono abbastanza convinto che per esempio questa larga trattazione di quotidiani oltre che essere utile ai genitori che giustamente possono conservare la loro lingua di origine e anche essere informati sul loro paese possa essere anche molto utile ai ragazzi che possono affinare questa seconda magari aiutati da corsi fatti nelle biblioteche civiche o magari poi anche nelle biblioteche scolastiche e questo penso che sia un'altra prospettiva nuova che si apre proprio in questa chiave ecco perché tutt'al più noi a Bologna che è una città ricca e colta abbiamo avuto una biblioteca inglese ma non abbiamo mai avuto una biblioteca filippina araba marocchina eccoci così ho detto anche una cosa di sinistra che non mi capita spesso ecco grazie come avete visto insomma siamo solo all'inizio e quindi insomma buon proseguimento i presupposti sono tutti i dati sono partiti benissimo quindi un ottimo inizio per reader grazie buon proseguimento grazie di tuoi libri più liberi grazie anche l'ho battuto di aver detto qualcosa sinistra grazie 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 grazie